E' acceso? Si si Ma alla faccia di quelli che dicono che non si può andare con la bici La grande Ma andiamo a cominciare Ma andiamo a cominciare Brevi Poi scendo Ok, dai, 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 dai Ok, dai, 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 dai Non mollare Ah, signore Vai, Leo Paesaggio futuristico Bellissimo Guardate, amici Quanta oggi Fantastico territorio Guarda qua La bici che si mantiene sulla neve Muoviti, pirla Dai cadavere Ma possiamo andare in giro con certa gente Possiamo andare in giro con certa gente Dai, let's go Spingi E che te ne frega, spingi lo stesso Dai, dai Sto soltanto 20 km in queste condizioni Ragazzi, Leo non ce la fa più Questo è un video che li mettiamo direttamente sulla sua bacheca Non ce la faccio più Nooo Dai, Barabba Ci siamo quasi Dai Altre 3-4 km Poi ne facciamo una decina di nora Dai Dai, dai, dai 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 Procedi Ciao ragazzi Ciao Ciao